amici del lago big fish ma soprattutto amiche del lago big fish buongiorno a tutti siamo qui in sponda ovest in compagnia dell'amico franco allora guardate lì sotto non so se si vede nel video adesso provo a garantire un attimo guardate quanto pesce c'è lì davanti lui sta pescando a bottom a bottom con l'imitazione di un pellet guardate che roba non so se si vede però rifaccia guardate che lavoro di pesce che c'è davanti o se lo litigano guarda che roba guarda che roba se lo litigano preso no vabbè è come pescare un acquarpo così è facilitata la cosa guarda è una roba lei va da l'aslamarla quella lì lei va da l'aslamarla sull'acqua non la porti in giro povera bestia noi vado lì ragazzi è una roba incredibile ci sono tutti i salmerini tutte le trotte guarda che roba incredibile incredibile benissimo allora allora siamo in attesa delle delle banane che dovrebbero arrivare domani anzi dovrebbero arrivare arrivano domani e quindi si preannuncia un weekend veramente veramente spaventoso allora vi ricordo che sabato ci sarà la mega giornata guarda qua guarda che no già presa l'aveva già presa in bocca no vabbè l'aveva già presa vi ricordo che sabato ci sarà la giornata speciale con grigliottone guarda presa presa guarda che bella che questa è anche bella adesso potete dal guadino vi do il guadino perché oh francole questa qui è numero uno cioè frego col bottom è un bombardamento beh tutta vista poi guarda se ne vieni lato una volta delle 40-50 no adesso non si è orara guarda che bella questa qui guarda che bella salmolatone questa qui e poi dovrete vedere dovete vedere le banane che arrivano domani ho preso delle banane ragazzi di altissimo livello altissimo livello faccio vedere guarda guarda che salmolatone guarda che bella questa è una leopardata guarda che roba aspetta aspetta che ho ancora lo zoom guarda che bel pesce abbiamo dei pesci di altissimo livello lo slavis per bene faccio il bravo e io niente qui dall'acquario big 2 è tutto a voi studio vi aspettiamo sabato banane di natale premi per le prime tre banane prese franco ecco stai calmo non stevenga aiutare ora